Come riscattare Fallout 76 per PC? Ovviamente per chi ha problemi a riscattare il gioco, il gioco va riscattato anche su Microsoft Store, quindi se non hai un account Microsoft Store ti consiglio di crearti l'account Microsoft e poi fai l'accesso sul Microsoft Store che hai sul tuo PC, quindi ed eccolo qua il Microsoft Store, questo qua. Ora andiamo sul nostro Prime Gaming, Fallout 76, ottieni gioco, esce così la licenza, il tuo codice è questo qua, copio così il codice, vado sul Microsoft Store, clicco sul mio logo profilo e c'è scritto riscattacodice o carte regalo. Metti il codice di 25 caratteri, facciamo avanti ed ecco il gioco, Fallout 76 per PC e fai conferma. Però a me dice sempre tu lo possieda già, ovviamente avevo già un'altra copia, quindi se questo video ti è stato utilissimo su come riscattare così un gioco su Prime Gaming e attivarlo sul Microsoft Store, qui stiamo parlando di Fallout 76, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!